ditemi una cosa la sensazione che avete avuto ieri quando avete segnato il secondo gol e avete pensato che poteva essere il gol decisivo del campionato dice che ha segnato noi bellissimo bellissimo che sapevamo che era una cosa fattibile sentivamo già la mattina quando siamo partiti come già in settimana si risperava un'aria molto buona il tifo quanta importanza ha avuto nella giornata di ieri che è stato molto molto caldo il tifo ha avuto una grande importanza non solo nella giornata di ieri perché comunque ci ha accompagnato in tutto questo in tutto questo campionato è sicuramente avere la possibilità di giocare fuori casa ma con un tifo del genere ci ha dato una spinta incredibile festeggiare con loro laggiù festeggiare dopo al ballarin qua bellissimo ma io confido ancora il domenica prossima e vorrei vedere davvero lo stadio pienissimo noi ci saremo grazie grazie preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'indiga gelato artigianale anche per l'asporto per gustarlo in compagnia dove vuoi tu all'indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono coppetta o con lo stecco grazie a tutti grazie a tutti